Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, come sempre tutte le mattine per l'appuntamento con la carta stampata, occhi ai giornali, come tutte le mattine siamo qui in diretta alle 7 e 30, voi davanti a una prima tazza di caffè, noi davanti al touchscreen, ma salutiamo anche coloro che ci seguono in replica nel corso della mattinata e poi all'una e trenta e naturalmente come sempre prima di guardare cosa ci riservano i giornali per la giornata di oggi, previsione del tempo ma anche il santo del giorno. Vediamo oggi mercoledì 2 agosto Sant'Eusebio di Vercelli, Vescovo, il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 20.31. Previsioni nel tempo che come ieri sono molto scarne come per tutto il resto della settimana, sia nelle didascalie che anche nelle variazioni quotidiane, vedete sereno, poco nuvoloso il cielo, nessuna precipitazione, temperature in lieve aumento, venti di brezza e mare quasi calmo anche domani, giovedì, vedete insomma la cartina è molto eloquente, sole su tutta la costa, anche sui rilievi, qualche velatura nel pomeriggio, nessuna precipitazione, anche venerdì, anche venerdì si presenta sotto la stessa tipologia di giornata, sereno, poco nuvoloso, un po' di velature sui rilievi però vedete sulla costa sole pieno, nessuna precipitazione all'orizzonte, temperature sempre in lieve aumento e venti a regime di brezza, il mare è calmo, anche per il resto della settimana le tendenze sono per tempo stabile e soleggiato, vediamo le temperature che sono veramente sia come ieri e anche per le prossime ore impegnative, siamo tutti, tutte insomma le zone monitorate nelle Marche nell'ora di punta delle 14 sono quasi tutte sopra i 30 gradi, addirittura Fabriano e Macerata a 38 gradi, 35 Osimo e anche Urbino e Pesaro e siamo sopra i 30 e questo è, insomma, sappiamo, è così e quindi insomma prendiamo le dovute precauzioni. Andiamo a vedere i giornali, vi porto nel resto del Carlino, la pagina di apertura dell'inserto, eccola qua, fotonotizia per l'evento, le candele galleggianti, le candele che si fanno in tre, poi Federici detenuto da due anni in Venezuela per traffico di uccellini, forse si accende la speranza trasferito al consolato, l'ex commerciante potrebbe anche grazie all'operazione all'ernia subita essere spostato dalla caserma ad un edificio appartenente all'Italia e poi altre notizie sia di cronaca all'interno, vi segnalo questa, la postrada salvata un cucciolo di Daino rimasto solo e poi una commercialista truffata si riprende i suoi 50.000 euro e si rivolge all'Adusbef e la banca alla fine paga. Nelle pagine interne appunto si parla di questa manifestazione che si fa in tre, perché vuole prolungare questo bel momento per i turisti e la spiaggia, l'iniziativa conquista anche il centro storico e quindi ecco qua il programma di San Lorenzo, bagnini tutti coinvolti, una tavolata lunga, 7 chilometri in spiaggia, eventi a pagamento ce ne sono, il concerto del Summer in di Samuel in piazza, sabato Rossini gourmet, una cena con 200 posti, vedete una foto, molto suggestiva di queste candele sul mare, però il caldo, il caldo che non dà tregua e che mette in costante crisi gli invasi e naturalmente anche le colture e la campagna, temperatura al massimo, ai massimi valori fino alla fine della prossima settimana, super caldo, ci dà i sette giorni luglio da record ma agosto non è da meno, ieri percepiti 36 gradi e vedete qui fiumi in secca, metauro al pozzo del Burano si respira però è in crisi, adesso c'è il bacino del Foglia. La pagina di Fano invece del resto del Carlino parla di una accademia che ha preso il via ed è stata presentata ieri al Teatro della Fortuna, a Fano i futuri talenti della lirica, una nota soprano, sarà una delle insegnanti, Patrizia Orciani, fanese di nascita anche se è figlia del mondo per i suoi concerti, la vedete qui insieme agli altri protagonisti di questa iniziativa che si chiama Fanopera, insegnanti per accogliere studenti da tutto il mondo, due opere a fine mese verranno presentate proprio da questi studenti, si diceva talenti da tutto il mondo, Cina, Israele, Ucraina e alcuni anche ex bambini di Chernobyl. Altra iniziativa che presto prenderà il via a Fano, amatissima dai turisti, gettonatissima, per tanti anni è stata sicuramente un bel biglietto di visita per Fano e lo sarà anche quest'anno per l'11 di agosto in giro per Fano, ci sono nuovi tesori da scoprire, Around Fano è anche stata un po' sdoganata dal dialetto e intitolata anche in questo modo per essere più d'appille per gli stranieri e per quelli che non sono di Fano. Altri luoghi storici aperti al pubblico, le novità, i concerti, insomma in questo articolo troverete tutto quello che è il programma di questa edizione e qui vedete una foto delle passate edizioni che ritrae appunto la gente nei nove punti di degustazione, spazio anche ai bambini, la mappa insomma di questo tour tra l'enogastronomia, le eccellenze e i presidi, gioielli di famiglia, c'è anche un numero di telefono per le prenotazioni, 2000 sono i posti messi in cantiere dall'organizzazione, dalla Proloco per questa edizione, quindi prenotate il vostro posto e poi ci sono anche i quattro canton, aprono agli amici anche a quattro zampe, quindi ci sarà divertimento anche per loro e quindi si parte per questa iniziativa che è stata ripresa, ripresa un po' in mano da una direzione artistica sicuramente che più mira a valorizzare le eccellenze fanesi, tra cresce e rustite, giudici e commensali e raccolte differenziate posticipate all'orario 24 dopo la mezzanotte proprio per rendere il centro fruibile e gestibile a pieno per i quattro canton. Andiamo nelle pagine che ci portano all'interno insomma del territorio, principalmente nella Valla Cesano, Colle al Metauro Aguzzi risponde alle accuse a passi appunto ieri sulla carta stampata sulla costituzione del suo staff proveniente dai Cinque Stelle dice abbiamo le risorse per aumentare lo staff, i nostri cittadini meritano servizi più efficienti e poi a Pergola, il caso del centro migrati, il sindaco di Pergola, Francesco Baldelli dice la Chiang venga prima a trovarmi. Baldelli polemico, l'invito è arrivato prima alla stampa che a me le spiegherò come stanno le cose. Ancora dall'interno, insomma da Urbino, dalla città Ducale, lo Sgarbi furioso, Guerra Lampo perché tutto pare che sia rientrato per la festa del Duca. Guerra Lampo è poi pace fatta, ha trovato un accordo per il biglietto d'ingresso. L'assessore Sgarbi ottiene la promozione della mostra Rinascimento Segreto vedete qua, insomma un atteggiamento abbastanza consueto nella mimica facciale tipicamente sua di Sgarbi. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, pagina di apertura, apertura decisamente diversa, si parla di cantieri, cantieri al ribasso, la denuncia della CNA, lavori sotto i portici eterni, bracci di ferro tra comune e azienda, ma poi anche in testa si parla di candele e di magia per le tre serate e Ricci dice accade solo a peso. Dopo la cena in spiaggia a San Lorenzo, concerto di Samuel e cena Rossini in centro. Le quotazioni delle imprese, si parla di economia qui di spalla, sono una spinta all'economia e poi musica, Gazzè e la VL in serie A, questi lanci in prima pagina e poi si parla naturalmente di ittica e di salute naturalmente legata all'alimentazione, un problema resta il porto, piccinetti sul fermo pesca, vongole piccole ma numerose, settore in grave difficoltà per il mancato dragaggio e lo vedremo poi all'interno. Pesaro in primo piano, si parla di accoglienza, non servono le polemiche e l'accoglienza adesso ci piace, il presidente dell'Apa Oliva invita a ragionare nel concreto e rilancia appunto sul documento AMANT con protocollo. Poi stop senza visuale, un lancio di cronaca qui travolto da un'auto, uno scooter, uno scooter naturalmente con conseguenze per sia le auto che gli occupanti dello scooter. Rinascimento segreto, un'altra iniziativa che porta a spasso le persone tra i paesaggi ritratti nei quadri famosi, il Piero della Francesca, li vedete qui, insomma una bella esperienza, otto appuntamenti dedicati appunto ai paesaggi riconoscibili nei capolavori di Leonardo e di Piero della Francesca, le colline ritratte 500 anni fa dalla prospettiva invece moderna. C'è cronaca nelle pagine di Pesaro e provincia perché furti, raggiri e persone sospette le speranze affidate a Facebook, sempre più pesareti si rivolgono al confezionale social per trovare i colpevoli o avere conforto dopo brutte esperienze, dopo brutte esperienze in termini di furti. La pagina di Fano del Corriere Adriatico appunto come avete visto nel lancio della pagina di apertura, questa intervista a Corrado Piccinetti, biologo marino, direttore del laboratorio, marino utile la norma che consente la cattura di esemplari di 22 mm, però il problema resta il porto, le vongole ci sono e sono abbondanti e in buona salute, però l'acqua calda è nociva ma c'è il ricambio e speriamo che il porto e il suo dragaggio arrivi presto come è stato annunciato per rendere la vita dei vongolari soprattutto che attraccano nelle darsene del porto che in alcuni momenti hanno veramente degli isolotti che affiorano e ci si può prendere il sole, speriamo che tutto questo presto venga risolto e si parla naturalmente anche nel Corriere Adriatico di Promozione e Territorio e si parla di Itineris, questa bellissima iniziativa copiata anche dalle città limitrofe, quei turisti presi per la gola perché si tende a mettere in contatto all'entroterra con la costa, allora gli alberghi consorziati presenta sempre ogni anno questa iniziativa che mette in collegamento e porta i turisti a spasso per l'entroterra alla scoperta non solo delle eccellenze gastronomiche o territoriali come vedete i vini oppure anche dei musei che sono nelle città vicine come San Costanzo, qui siamo a San Costanzo nelle sale che ospitano una mostra di costumi del Carnevale di Venezia, già 800 le adesioni a questa bella iniziativa e speriamo che i numeri vengano superati rispetto a quelli dell'anno scorso, questo vuol dire che Fano piace ai turisti con le sue offerte. Si parla anche di politica nelle pagine interne dell'inserto di Fano, la minoranza aggredisce ma parliamo di economia, De Benedittis respinge le critiche di Serfilippi, ho proposto una seduta consigliare sul lavoro, vedete qui in questa foto i duellanti Luca Serfilippi e Mattia De Benedittis. Ancora delle pagine che riguardano la Val Cesano, ora gli asili sull'Appennino passano alla fase operativa, prevista la teleassistenza per contrastare il senso di abbandono degli anziani, il sindaco di Frontone Francesco Passetti propone questo, spazi anche alla creatività per sviluppare formazione e accoglienza turistica, qui vedete la rocca del castello di Frontone e le sue iniziative, 2 milioni di euro per il patrimonio culturale dell'area interna Basso Pesarese e Anconetano. E poi Arte Storia, l'abbraccio di Mondolfo ai visitatori, 5 iniziative da stasera nella città fortificata, tutte a ingresso gratuito, vedete il sindaco Nicola Barbieri che porta a spasso Sorcinelli. Allora le pagine di Senigallia, si parla di Summer Jamboree e accoglienza, hotel a peso d'oro per il summer, quindi affari appunto d'oro per chi tratta l'accoglienza, ma il traffico in centro impazzisce fino a 2.400 euro per due notti nell'atmosfera anni 50, auto ovunque, i pedoni si improvvisano equilibristi, vedete qui in questa foto, qui siamo sul lungo mare, sul lungo canale di Senigallia e questo pedone, vedete qui sul cornicione del parapetto del canale che per bypassare le macchine parcheggiate se la fa in questo stretto passaggio e poi vedete insomma macchine che scavalcano barriere, insomma come è immaginabile le atmosfere anni 50 del centro però cozzano un po' con la viabilità, ma quando arrivano tante persone è così. L'ultima pagina che vi faccio vedere riguarda appunto Senigallia e un lutto che insomma lascia un vuoto in lacrime per Gambelli, l'anima della biblioteca è morto in seguito ai traumi riportati in una caduta all'Antonelliana, cultura in lutto. Grazie per essere stati in nostra compagnia, questa era l'ultima pagina che vi proponevo, occhio ai giornali, torna domani mattina puntuale alle 7.30 e questa sera l'informazione qui da Fano TV con occhio alla notizia alle 20.30. Grazie e buona giornata a tutti voi, domattina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.